Ciao Danino JFC, tutto a posto ragazzi, tutto a posto, stasera si può dormire sereni, senza agitazione, perché lo so, lo so che voi siete come me, siete preoccupati, eravate preoccupati. Io l'ho scritto da poco nelle storie su Instagram, ho scritto ero preoccupato, ero preoccupato perché erano 16-17 ore che non leggevo, non sentivo dichiarazioni di Leonardo Bonucci in merito al suo passato bianconero in particolare, quella parentesi turbolenta con la Juve, nello specifico con Massimiliano Allegri. Sapete bene che Bonucci ormai da anni ci aggiorna quasi quotidianamente su quel periodo, anzi più che aggiornarci lo rievoca magari ogni volta aggiungendo dei pezzi, però era un qualche giorno, insomma anche meno, comunque erano 16-17 ore come ho scritto su Instagram che non leggevo nessuna notizia di questo tipo. Per fortuna il nostro soccorso a salvare anche i nostri sonni ci ha pensato Amazon Prime Video che ha questo speciale che si chiama Fenomeni mi pare, con un Luca Toni, tra l'altro in veste di intervistatore, che ha intervistato appunto Leonardo Bonucci e Leonardo Bonucci ha rievocato quel periodo che risale alla prima parte dell'anno 2017 e seconda parte quindi della stagione 16-17. Il famoso scontro che ci fu tra lui e Allegri in una partita che l'avimento si giocò contro il Palermo pochi giorni prima della gara di Champions League contro il Porto che è rimasta nella storia come la gara dello sgabello su cui poi si andò a sedere insomma Leonardo Bonucci che finì in tribuna proprio per i fatti che c'erano stati pochi giorni prima e Bonucci racconta di quello che accadde e lui dice, lo avevo letto ma poi l'ho anche ascoltato, dice che durante la partita lui aveva visto a un certo punto nella ripresa Marchisio Cotto, Marchisio che già veniva da un infortunio, lui lo vede che non ce la fa più e dice a Marchisio fatti sostituire. Marchisio gli risponde no non voglio essere sostituito voglio continuare a giocare, ce la faccio eccetera e Bonucci a quel punto si rivolge ad Allegri a distanza ovviamente uno sul campo l'altro dalla panchina e gli dice chiamalo fuori insomma sostituiscelo perché non ne ha più con Allegri che dà di matto, con Allegri che gli risponde stai zitto coglione fatti i cazzi tu e pensa a fare il calciatore insomma e roba del genere. Scontro che poi prosegue praticamente al limite del fisico quando la partita finisce negli spogliatoi insomma con i due che si attaccano in maniera pesante Bonucci che deve essere anche portato via. E poi insomma la stagione prosegue, c'è la tribuna con il Porto e si arriva fino alla finale di Champions League di Cardiff persa dalla Juventus contro il Real Madrid con quelle voci che vengono fuori di un Bonucci che ha fatto casino nello spogliatoio, lui che vuole essere protetto dalla società, la società che gli risponde non abbiamo nulla da dichiarare, nulla da chiarire su questa storia, insomma il rapporto che si interrompe definitivamente, infatti Bonucci poi andrà al Milan prima poi di tornare, tra l'altro tornare alla Juventus allenata da chi? Sempre e comunque da Massimiliano Allegri. Però evidentemente dopo quella stagione fatta con il Milan lì senza essere riuscito a spostare i famosi equilibri, ricorderete il meme di quella stagione, di quel periodo, nonostante Allegri in panchina, quello che ti ha odiato, quello che ti ha chiamato coglione eccetera, guarda un po' la Juventus di Cristiano Ronaldo tra l'altro e tu torni tranquillamente. Già lì tante cose insomma furono abbastanza chiare e questo è. Ora quando io ho sentito queste parole di Bonucci la primissima cosa che ho pensato è stata sì vabbè ma perché non ti sei fatta all'epoca i cazzi tuoi in quella famosa sfida col Palermo cioè nel senso se il tuo compagno ti dice no guarda ce la faccio voglio rimanere in campo mi voglio testare ecco anche in vista delle prossime partite e questo è uno se l'allenatore dalla panchina l'allenatore il suo staff che sono comunque in continuo contatto con i giocatori no dicendo oh ma allora ce la fai non ce la fai ti devo cambiare dobbiamo fare un cambio per te seppure da lì non stanno arrivando segnali per il cambio di marchisio tu perché non ti fai i cazzi tuoi fondamentalmente ok sei un leader sei questo sei quello però c'è il giocatore c'è l'allenatore già questo basta questa è la prima cosa la seconda cosa capisco che per molti allegri è una figura demoniaca il diavolo in persona però non mi risulta sia affetto da schizofrenia cioè abbia questo fatto così che sta in buonissimi rapporti con qualcuno e poi all'oggi al domani inizia ad insultarlo qualcuno potrà dire visto che è successo in finale di coppa italia sì ma sappiamo bene cioè ormai si è capito anche dai vari spifferi che sono venuti fuori che erano mesi che si covava quella tensione tra tra i protagonisti di quella vicenda ecco evidentemente la stessa cosa sarà accaduta all'epoca nel senso che l'allenatore magari si è ritrovato a risponderti in questo modo perché in altre occasioni già ti è rimesso in mezzo oppure ti è rimesso a fare il capetto cosa che buonucci sappiamo bene che fa lo abbiamo anche visto ci sono anche degli estratti quando la juventus è stata protagonista di quegli speciali quello anche quello che fecero su su prime come a buonucci è sempre piaciuto fare i leader leader proprio di parola soprattutto e che questa cosa poi non sia stata sempre ben vista dai compagni tant'è che ci fu anche l'uscita diciamo contro di lui di cesni e buonucci è intervenuto anche su quella dicendo ci sono rimasto male perché perché non me l'aspettavo io parlavo per il bene della juve e poi anche fatto la stoccatina cesni dicendo no ma lui non metteva le cuffie quando io parlavo in realtà andava in bagno a fare altro e riferimento era alla sigaretta che sappiamo essere un vizio del portiere polacco però insomma voglio dire no abbiamo varie testimonianze di come buonucci poi da questo punto di vista non sia stato particolarmente apprezzato fatto sta ribadisco che nonostante tutta sta roba nonostante questo rapporto che poi non è stato migliore negli anni successivi quando allegri anche ritornato alla juve ricorderete anche la questione lì della della fascia no le dichiarazioni di allegri ma anche quando si separarono no bonucci e la juve no con bonucci che attaccò nuovamente allegri dicendo che poi alla fine era lui che gli aveva suggerito di smettere eccetera però c'è un film famosissimo di di totò no la famosa battuta il locale buio e triste e sta sempre qua c'è nel senso che alla fine sei stato così maltrattato però ti è piaciuto anche ritornare oltre a sto fatto di ritornare su questi episodi che almeno da come li racconti tu sembrano a mio parere non andare tanto a tuo favore perché da come l'hai messa tu ti sei messa da come l'hai messa tu questa storia hai descritto te stesso come un giocatore che comunque sta in mezzo alle palle e si mette tra i giocatori i tuoi compagni e l'allenatore ora comunque alla fine ognuno tira acqua al proprio mulino ognuno racconta le storie a modo suo allegri se non era non è mai ritornato nello specifico su questa su questa vicenda qui chissà se un giorno lo farà ma non credo però staremo a vedere fatto sta che c'è proprio questa questo fatto da parte di bonucci di chiacchierare 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 forse il fatto che adesso abbia pure smesso di giocare lo porta ad avere quella cosa che hanno un po i calciatori post ritiro di aver paura di scomparire e quindi ogni due per tre fa le sue dichiarazioni però quello che vorrei dire a bonucci tu adesso stai facendo il corso mi pare da allenatore non credo che tu l'abbia già finito hai questo sogno e questa ambizione ogni tanto butti pure la frasetta mi piacerebbe vincere tanto farlo sulla panchina della juve abbiamo capito che in un modo o nell'altro sempre alla juve vuoi finire però io ti auguro il meglio assolutamente da allenatore pensa a quello basta tornare su qua stor basta è rimasta proprio qua diceva beh ma perché all'epoca mi ha fatto ma ho capito ma supera supera la vabbè comunque questo va bene allora adesso io vi saluto però ci aggiorniamo su questo va bene perché poi oggi è 9 dicembre sono uscite queste dichiarazioni magari adesso se la prende un po più comoda entro l'undici dodici dicembre dovremmo avere il ribadire questa storia va bene ma in quel caso non ci farò un video vi saluto ditemi la vostra qui sotto ci vediamo nei prossimi video come sempre fino alla fine